Non potete immaginare quanto sia bello questo banco. Ha delle sfumature meravigliose del legno che adesso voglio farmi spiegare. Da chi ovviamente ha portato queste meraviglie? E chi è questa persona? Camel. Camel, da dove arrivi? Dalla Tunisia. Bene, allora abbiamo un'altra Tunisia espressa qui al mercato europeo con il legno, ma sono meravigliose. Di che cosa si tratta? Sono prodotti legni di olio fatti a mano, artigianali. Sono sia delle opere che si possono anche mettere a muro, comunque sono decorative, oppure ci sono anche delle cose che sono più utili anche, no? Per esempio? Cucina per decorazioni. Bene, e poi vediamo anche degli scacchi, ecco, soprattutto per quelli che sono appassionati di scacchi, averne una così, voglio dire, una scacchiera così artistica. Poi comunque vediamo mestoli, vediamo anche dei contenitori. Foto, di mestoli, cucchiai, varie cose per l'aperitivo, taglieri, vassoi, tagliapani. Insomma, c'è di tutto, venite qui e venite a vedere, porta frutta, esatto. Grazie mille, grazie, ciao, buona giornata. Grazie, grazie a lei.